di fare questi dibattiti pubblici perché penso che questo evento formativo probabilmente vale molto di più di ore di lezione che si fanno molto spesso a noi andosi, capirà di quella meca studente, quindi penso che può essere un incendio in più questa oretta di formazione. Io vorrei puntualizzare due cose, vorrei entrare in merito proprio al libro, giusto per dare qualche input automatico che sicuramente ci indirizzerà anche per l'erogio, però leggendo il libro alcune cose mi hanno ingurato dentro proprio in merito a questo. Allora, i primi due capitoli, qualcuno ha detto solo il mio capitolo, no, l'ho detto qui. Padre un po' della tua vita, cioè come hai affrontato anche da ragazzo, quello che dovresti il tuo futuro, prometti che in questo momento che noi parliamo con ragazzi di terza media, che dovranno già da quest'anno fare la prima forse scelta importante, cioè scegliere che istituto faranno, io vorrei che tu parlassi a loro di com'è importante l'impegno, la determinazione, come tu hai detto nel tuo libro, come sono proprio da angliessi.